Un asse tra l'Aquila e Roma in vista del grande giubileo universale della Chiesa Cattolica nel 2025, appuntamento che si rinnova ogni 25 anni e per il quale si attendono 35 milioni di pellegrini. Il capoluogo, che celebra ogni anno il giubileo più antico della storia, vuole recitare la sua parte. Nei giorni scorsi Dario Nanni, presidente della Commissione Capitolina Speciale Giubileo 2025, è stata l'Aquila in occasione della presentazione del libro di Angelo De Nicola, proprio sul primo giubileo della storia e Papa Celestino. Le parole di Nanni non hanno lasciato spazio a dubbi, creare un asse. Per lui è fondamentale che l'Aquila, eletta proprio da Papa Francesco Capitale del Perdono, organizzi iniziative assieme a Roma. E se Roma già si sta preparando ad accogliere tantissima gente, l'Aquila non deve, non può farsi trovare impreparata. Sembra che la curia già ci stia lavorando, anche per mettere finalmente a frutto gli strasciche che potrebbe avere ancora la visita del Papa che ci fu per la perdonanza. Se mettete insieme il riconoscimento unesco, la visita del Papa e questa possibilità nel 2025 con 39 milioni di pellegrini previsti a Roma in quell'anno, beh abbiamo veramente a un'ora da Roma una grandissima straordinaria occasione essendo quello di Celestino il primo giubileo della storia. Ha inventato lui questo meccanismo dell'indulgenza plenario che è uno straordinario messaggio di pace. Ecco l'Aquila potrebbe avere molti benefici ma bisognerà lavorare tanto per farsi trovare pronti. Del resto però per la visita del Papa ha dimostrato di avere le carte in regola anche per ordine pubblico di poter gestire un'affluenza massiccia. Assolutamente sì, l'occasione con il consigliere Dario Nanni è stata un'occasione straordinaria, forse qualche presenza in più della politica cittadina nei confronti di questa sua visita importante e questa sua disponibilità perché è un abruzzese orgogliosamente di Magliano De Marzi e quindi potrebbe essere per noi una straordinaria occasione agganciarci al giubileo, all'evento del 2025 mondiale.